Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui e di poter parlare del Flauto Magico perché il Flauto Magico è un po' il testamento di Mozart, contemporaneo a Cremenza di Tito, il titico con il quale lui ci ha lasciato, sono due opere che sono state rappresentate entrambe nel settembre del 1791, appunto l'anno della sua morte, ci ha lasciato con due opere che sono veramente molto molto importanti, io in Mozart Massone Rivoluzionario, questo testo che visto che è stato nominato a Bado, che è nel cuore di tutti, nella memoria di tutti, è in Mozart Massone Rivoluzionario edito dal Saggiatore, ho affrontato la trilogia da Pontiana, quindi Nozia di Figaro, Don Giovanni, così fanno tutte e sia Cremenza di Tito che Flauto Magico che come vi dicevo prima sono di fatto contemporanee perché quando è andata in scena Cremenza di Tito in realtà Mozart aveva già finito la stesura del Flauto Magico, quindi sono tanto più significative perché sono estremamente diverse, uno Flauto Magico è un Zinspiel, quindi alterna come già il Ratto del Serraglio che era del 1781, quindi di dieci anni prima, 1782 scusate, quindi quasi dieci anni prima, alterna parti recitate e parti cantate e invece la Cremenza di Tito è un'opera seria, su testo originale di Metastasio ritrascritto da Caterino Mazzolà che era anche lui un massone, tra l'altro non dimentichiamo, anche se è una notizia laterale ma non così tanto laterale che non solo Caterino Mazzolà che riscrisse la Cremenza di Tito era un massone e aveva anche scritto il libretto per un'opera esplicitamente massonica intitolata Osiris per l'appunto, ma il Metastasio che noi studiamo a scuola come un uomo un po' accademico, legato al passato, alla tradizione eccetera, non lo è poi così tanto ci sono dei luoghi comuni che sono duri a morire e questo è uno di quelli, tant'è che era ammiratissimo proprio da Voltaire il quale Voltaire aveva apprezzato in particolare, l'aveva apprezzato in particolare proprio per la Cremenza di Tito e in particolare per la scena dove Tito stabilisce con chiarezza etica veramente cristallina quanto il potere possa essere legittimato solo dalla volontà di tradurlo in benessere collettivo è il famoso verso sollevarli oppressi, giovarli oppressi che è quasi identico e che abbraccia la produzione mozzartiana perché va da Re Pastore dove appunto viene detta sempre in un testo tratto da un originario di Metastasio fino alla Clemenza di Tito. Clemenza di Tito non dimentichiamo, e qui chiudo per poi ovviamente passare a Falto Magico che venne commissionata da un gruppo di massoni e venne rappresentata a Praga invece Falto Magico opera molto molto più famosa, io ho insegnato molti anni e devo dire che ancora adesso ci sono due cose che vanno moltissimo presso i ragazzi, presso le scuole quando anche mi chiamano a fare delle chiacchierate con i giovani che mi diverte sempre molto sono Oimè Amadeus di Forman che svolge un'opera di divulgazione importantissima perché spesso molti ragazzi conoscono Mozart perché hanno visto questo film che tra l'altro è del 1984 ma continua a godere di grandissimo successo. È proprio un film popolare quindi in quanto tale va rispettato moltissimo anche se come avremo modo di ripetere, ribadire, diventerà una specie di tormentone ha tratteggiato un'immagine di Mozart che non ha certo inventato ma che ha dedotto dalla musicologia che è totalmente snaturato rispetto a quello che la musicologia stessa negli ultimi 20-30 anni ma ormai direi che il cammino era cominciato anche prima ha smentito totalmente cioè Mozart come prima accennava Pellegrini non è un bambinone che sta tra lo sboccato, l'ingenuo, baciato dagli dèi che quando si mette a scrivere è una sorta di dio e quando invece vive è una specie di subumano è un papagheno oserei dire e mi piace dirlo perché posso anche raccontarvi degli aneddoti che legati alla figura di papagheno possono chiarire ulteriormente quanto Mozart fosse ben più complesso di quanto ci sia arrivato. E poi il film di Berman, storico anche quello, un culto ormai del flauto magico ma devo dire che su internet per esempio molte versioni, allestimenti e anche produzioni di video cinematografiche girano moltissimo e il flauto magico è veramente una delle opere più amate, più famose da un vasto e ampio pubblico. Quindi come si può dal flauto magico capire se Mozart voleva dedicarsi a una fiaba, come è stato spesso detto, se venne in qualche modo costretto, c'è quest'altra vulgata per cui Mozart si trovava lì dei libretti e li musicava perché la contingenza lo portava a farlo e non per scelta consapevole. Allora da un lato è fuori di discussione che i compositori di tutti i tempi non possono scegliere dal niente ciò che vogliono musicare perché ci sono tutta una serie di elementi contestuali, organizzativi che li spingono a determinate scelte. Però c'è una lettera di Mozart scritta proprio all'inizio della stesura della trilogia da Pontiana, quindi tra 1985 e 1986, in cui lui dichiara esplicitamente di aver scartato più di 100 libretti prima di scegliere il Figaro, come lo chiamava lui nelle lettere. Quindi per esempio Nozzi di Figaro che è un'opera dal forte contenuto rivoluzionario, girava l'Europa questa pièce di Beaumarchais che appunto lui chiamava confidenzialmente il Figaro in quanto era una delle prime volte in Europa in cui uno spettacolo teatrale, quindi qualche cosa di estremamente popolare e diffuso, vedeva un servo avere un meglio su un nobile. Ecco, non è vero che Mozart se l'è trovato fra le mani, noi lo sappiamo anche da da Ponte, sappiamo anche che da Ponte il librettista col quale ha scritto la trilogia da Pontiana, nelle sue memorie non sempre esatto e precisissimo, però sicuramente semmai amava attribuirsi più iniziative di quante non ne aveste, più meriti di quante non ne avessi, certo non il contrario. Per cui nel momento in cui ci dice che Mozart sceglie quel testo e noi sappiamo che ha scartato più di 100 libretti, vuol dire che Mozart quando decideva di comporre e di musicare un testo aveva le idee molto chiare. Nel caso di Flauto Magico poi siamo proprio alla testimonianza somma perché sappiamo tutti che si tratta di un'opera massonica. Perché è un'opera massonica? Io non voglio raccontarvi la trava nei dettagli perché passerebbe tutto il tempo che abbiamo a disposizione, basta andare su un Wikipedia qualsiasi e la trama c'è, però almeno le cose sostanziali è bene ricordarle. Si tratta di un'opera massonica esplicitamente in quanto i due protagonisti principali Tamino e Pamina che sono due rappresentanti di una classe molto colta, molto evoluta, lui è un principe, verranno iniziati ai misteri di Iside e Osiride. Iside e Osiride sono due dei dell'antica Grecia che erano molto amati, ammirati e stimati dai massoni e c'è chi dice che la figura di Sarastro che è fondamentale all'interno della vicenda sia stata tratteggiata su un personaggio vicino a Mozart di cui parleremo. Allora detta proprio in due parole la trama vede Tamino e Pamina che sono la coppia diciamo nobile di fatto ed animo e la coppia più popolare papageno-papagena iniziarsi ai misteri di Iside e Osiride dopo aver attraversato un cammino faticoso, un cammino irto, un cammino che come la vita comporta dei pericoli anche molto spaventosi, terrificanti. In particolare Tamino e Pamina supereranno le prove dell'acqua e del fuoco e avendo attraversato simbolicamente la morte verranno accolti nel regno in particolare di Iside. In tutto questo c'è la figura della regina della notte che è fondamentale, la regina della notte è astrifiammante, ecco lei che attraverso le sue tre damigelle arriva a Tamino, gli fa vedere il ritratto di sua figlia, gli racconta che la figlia è stata rapita dal malvagio Sarastro, grande sacerdote del tempio che conduce alle batitudini di Iside e di Osiride e Tamino si innamora, si commuove, decide di liberarla da questo malvagio Sarastro che noi man mano scopriremo non essere malvagio, non essere il cattivo, ma essere anzi un uomo molto saggio che ha sottratto Pamina dall'influenza negativa, buia, scura, il male della regina della notte per affiancarla a Tamino e consentirle questo cammino iniziatico che porterà loro alla saggezza interiore ma anche alla saggezza collettiva, vale a dire alla possibilità di cambiare e migliorare il mondo. È interessante a proposito di Iside ricordare una cosa che mi è venuta in mente prima mentre guidavo per un'associazione di pensieri che nel 1792 in occasione di festeggiamenti ormai erano passati come sappiamo tre anni dalla rivoluzione francese il grande scultore David costruì, scolpì, disegnò e poi realizzò una fontana con una statua di Iside considerata la dea per eccellenza della legalità, del progresso, della luce, della saggezza. Il direttorio poi la distrusse e infatti nella piazza della Bastiglia non c'è più. Ma è significativo che per i rivoluzionari francesi Iside fosse un simbolo di progressismo. Allora quel che si pensa, si dice ancora molto, troppo spesso è ma quanto Mozart era davvero interessato per esempio ai risvolti politici della massoneria. Allora intanto bisogna ritornare alle origini storiche che vedono Mozart tra il 1781 e il 1791 a Vienna. È il suo decennio della maturità che se non fosse stato sottratto alla vita e alla musica così prematuramente chissà a che cosa lo avrebbe portato. Perché è un decennio così importante? Perché Vienna tra il 1781 1791 vive un momento incredibile che tra l'altro la storiografia sta illuminando negli ultimi vent'anni. Quando si studiava e ancora in parte oggi si studia a scuola quel periodo storico si parla solo della Francia e della rivoluzione francese. Si accenna al dispotismo illuminato ma non lo si approfondisce anche perché Giuseppe II è un personaggio molto difficile da collocare. Giuseppe II era già correggente con Maria Teresa d'Austria ma nel 1780 con la morte della madre diventa unico imperatore e fa delle riforme che la storiografia degli ultimi anni sta ammettendo essere straordinari e incredibili. Il che non significa assolutamente che fosse un sovrano perfetto o che non avesse lati ancora legati al passato scurantisti. Però di fatto considerando il contesto dell'epoca ma oimè considerando anche il rapporto per esempio con molte molte cose che succedono a tutt'oggi fece delle riforme che sono a dir poco sbalorditivo. Lo chiamano il rivoluzionario coronato e mi piace ricordare Luciano Guerci che purtroppo grande storico che ci ha lasciato quest'anno prematuramente perché aveva 74-75 anni e che è stato un grandissimo studiore del Settecento quando descrive la massoneia di Giuseppe II come un periodo ancora tutto da scoprire perché è davvero sbalorditivo. Se non accenniamo a tre o quattro cose fondamentali che Giuseppe II aveva fatto in quegli anni non possiamo capire l'accelerazione culturale progressista di Mozart che, attenzione, affondava radici in una infanzia, in un'adolescenza che è il contrario di quella che è stata dipinta. Un'infanzia, un'adolescenza ricca di stimoli con un padre assolutamente giocoso e istruttivo e caldo e paterno nel senso più alto del termine che l'aveva introdotto nelle correnti culturali più all'avanguardia. Certo queste radici fioriscono veramente hanno un'accelerazione in quel decennio perché l'accelerazione ci fu a Vienna. Facciamo degli esempi. Intanto Mozart viene iniziato ufficialmente alla massoneria alla fine del 1784 e a Vienna dal 1781 ha sposato Constanze Weber nel 1782. Nel 1784 è l'anno in cui nasce Carla che è uno dei due figli che sopravvissero perché Constanze rimase incinta sei volte. L'altro figlio nacque pochi mesi prima del flauto magico e in pratica non conobbe il padre perché era talmente piccolo che non si ricordava niente di lui e gli altri morirono. Quindi Constanze in quegli otto, lei diciotto anni, in realtà furono nove anni di matrimonio, rimase incinta ben sei volte. Quindi alla fine del 1784, quando ormai lui è a Vienna da qualche anno, viene iniziato alla massoneria in una loggia che di lì a poco verrà sciolta da Giuseppe II che regolamentò la moltitudine di logge e decise di ridurne il numero. ed entrò quindi in questa Zurge Kroenten Ostnung, la speranza incoronata, che come quella precedente, che è ancora più interessante che è Welt etiquette, cioè la beneficenza, l'altruismo, la carità, operava sotto l'ala dell'Azur-Waren Eintracht, che è la loggia massonica, che tutti gli storici ormai definiscono come il cuore dell'illuminismo austriaco. Un illuminismo incredibile, con quella inondazione di pamphlet, come viene chiamata dagli storici, per cui grazie alla libertà di stampa parziale, ma incredibile rispetto a quanto succedeva precedentemente, permise veramente una fioritura locale di testi, di pamphlet, di romanzi e anche una traduzione di tutta quella letteratura progressista che stava scuotendo e che scuoterà ancora di più, sfocerà nella rivoluzione francese l'Europa. Nel 1781 Giuseppe II avvia una serie di riforme che vanno appunto da una rivoluzione della censura che di fatto è legittimata a bloccare i testi solo quando sono esplicitamente eversivi, quindi intendono arrivare al proprio arrovesciamento dello Stato o sono di grave danno alla collettività. È una censura talmente vaga come definizioni e in più viene gestita da personaggi amici di Mozart e amici di Giuseppe II estremamente rivoluzionari. Ovviamente sarebbero tantissimi, ve ne cito uno per arrivare poi più in fretta al flauto magico, che è Joseph Sonnenfels. Sonnenfels è un personaggio incredibile che era già riuscito nel 1776 a far abolire la tortura a Maria Teresa d'Austria. Era stato fautore dell'abolazione della pena di morte prima di Beccaria, tant'è vero che quando Beccaria nel 1764 pubblicò dei delitti delle pene, Sonnenfels accolse con grandissima felicità questo testo e un pizzico di recriminazione dicendo quando io dicevo queste cose dieci anni prima mi volevano linciare. Ecco Giuseppe II nel suo codice civile e penale che cominciò a stilare nel 1787 e che purtroppo non divenne mai completamente operativo perché nel 1790 lui morì, ma che cominciò a essere applicato diciamo a settori, aveva abolito completamente la tortura, cosa che era già stata come dicevo dal 1776 inserita, ma lui proprio la torse completamente anche con delle prese di posizioni pesanti nei confronti di chi vi ricorresse in termini anche indiretti e prevedeva la totale abolizione della pena di morte a meno che appunto non fosse quello che oggi chiamassimo, chiameremo terrorismo. Ma non per delitti, non per omicidi, non per... la motivazione era di tipo sociale, aboliamo la pena di morte perché come diceva Beccaria e come ridiceva Sonnenfels colpisce sempre più fragili, più deboli e poi cosa sostanziale aveva imposto che la legge fosse uguale per tutti e che quindi le punizioni fossero totalmente indipendenti dal rango della persona rea. Questo aveva scatenato la furia della nobiltà austriaca e in particolare della nobilità ungherese, boema e quant'altro. Chiaro che Giuseppe II aveva molti nemici. Allora qual era il rapporto di Mozart, massone dal 1784, con un Giuseppe II che doveva lottare per tenere a bada un'aristocrazia che scalpitava per delle riforme veramente rivoluzionarie. pensate che nel 1771, quindi quando ancora era correggente, Giuseppe II andrò a Praga, vide la Bohemia in una carestia tra le peggiori in tutta la storia europea, la gente moriva per strada, proprio morivano come le mosche, e ne rimase sconvolto e scrisse che era rimasto disgustato dal fatto che una città così ricca, con un clero così potente, con una quantità di prelati così forte, non avesse visto nessuna persona religiosa accogliere quello che lui chiama un disperato tra i tanti poveri che morivano di fame per le strade. tornato a Vienna, fece immediatamente un editto che proibiva l'esportazione dei cereali finché, dalla Bohemia, finché la fame non fosse finita, si prodigò in prima persona per aiutare singole persone che aveva incontrato, poveracci, contadini e quant'altro. Insomma, Giuseppe II è veramente un personaggio non banale. Ma vediamo quanto c'entra con Mozart per arrivare a comprendere veramente il messaggio del flauto magico. Allora, ci sono alcune dichiarazioni di Mozart nel suo epistolario, proprio su Giuseppe II. Sono altalenanti, ma ce n'è una che secondo me dà le due facce del suo atteggiamento incredibile rispetto a Giuseppe II. Nel 1782, quindi è lì da un po' a Vienna, ma non ha ancora cominciato neanche la trilogia da Pontiana che sicuramente rafforzerà la sua posizione, scrive al padre che secondo lui Giuseppe II non aiuta abbastanza i talenti locali. Si lamenta del fatto che forse non è completamente dalla sua e quindi non l'ha aiutato a diventare insegnante di una principessa a cui lui teneva moltissimo, perché per lui esiste solo Salieri. Queste sono le famose frasi dalle quali ha preso spunto poi questo mito dell'odio feroce tra Mozart e Salieri, soprattutto di Mozart. Poi è stato ancora più letterario quello di Salieri dovuto al fatto che secondo Puskin e tanti altri Salieri non si sentiva all'altezza di Mozart. E' vero che scrive questo di Giuseppe II ed è anche vero che a un certo punto dice testualmente io non ho intenzione di mendicare o Vienna mi ridà qualcosa in cambio, così come vuole il primo ministro Kaunitz, un altro personaggio che era stato il primo a volere che venisse tradotta in tedesco l'encecopedia francese. Kaunitz mi stima, Sonnenfes, ve l'ho citato prima, è uno di quelli che mi stimano, nel 1784 sarà uno dei suoi sostenitori, cioè sarà sottoscrittore di concerti fatti a suo beneficio dei quali lui poi traeva sostentamento per vivere lui e la sua famiglia. E stiamo parlando di questo Joseph Sonnenfes, un personaggio che gli storici considerano un pilastro di questo illuminismo progressista e addirittura per certi aspetti rivoluzionario. E dice al padre io non mendico da nessuno, neanche da un sovrano e neanche da un sovrano che è quello che più stimo al mondo e per nessun altro monarca lavorerei così volentieri come per lui. Quindi Mozart ci dice già, e siamo nel 1782, come stanno le cose. Lui è orgoglioso, lui sa di valere quanto vale, sa di avere bisogno di qualcuno che comprenda pienamente la sua arte e non è disposto a mendicare, neanche da un personaggio che però lui ci dice essere il miglior monarca del mondo. Com'è possibile che Mozart considerasse Giuseppe II il miglior monarca del mondo? Come lo sappiamo al di là delle sue parole? Basta dare un'occhiata ai libri che leggeva. Tra i libri che leggeva c'erano due testi rivoluzionari che vengono anche citati dalla vedova Costanze molti, molti anni dopo, quando nel 1829 i coniugi Mary e Vincent Novello, inglesi, andarono a Salisburgo per raccogliere le testimonianze delle ultime persone che vivevano ancora e che avevano conosciuto Mozart. Tra queste ovviamente la sorella Nanner che di lì a poco sarebbe morta, che era più vecchia di lui, e la moglie Costanze che era tornata dopo essere diventata vedova anche del secondo marito a Salisburgo. Ecco, nel 1829 vengono fatte alcune domande a Costanze e a Nanner, da cui sappiamo che Mozart aveva in casa sua dei libri rivoluzionari. Costanze dice, non vi dico il titolo di un testo perché è vietato nelle terre austriache, eravamo nel 1829 quindi in piena reazione, e ho proprio paura a dirvelo. Questo testo era l'Eneide travestita di Alois Blumauer. L'Eneide travestita era una satira spietata della nascita del papato e di tutti i danni che la Chiesa Cattolica avrebbe poi perpetrato negli anni. Un altro testo della biblioteca di Mozart, questo Faustin di Petzl, vede il protagonista, appunto Faustin, dal titolo romanzo, attraversare l'Europa per costatare, oimè quanto poco si stia realizzando quel secolo filosofico di cui tanto aveva parlato Voltaire. Questo testo è del 1783 e il povero Faustin ne passa di tutti i colori con cattolici, islamici, protestanti, perché ognuno di loro dà il peggio di sé nel dimostrare che questa tolleranza tanto auspicata non viene poi realizzata. Questo cosa significa? Significa che Mozart che aveva questi testi che adesso sappiamo, non solo li aveva, ma li amava. Sappiamo che questi personaggi, vi ho citato Blumauer, vi ho citato Petzl, erano suoi fratelli massoni, appartenevano alle stesse loggie. Blumauer era anche il caporedattore del giornale dei massoni, che è molto importante perché ha influenzato anche la nascita del flauto magico, di cui era fondatore e direttore quel Sonnenfeld giurista che volle e ottenne l'abolizione della tortura e della pena di morte e che è considerato dal punto di vista giuridico un punto di riferimento imprescindibile ancora oggi. Ecco, sappiamo tutto questo, quindi sappiamo sicuramente che Mozart era anticlericale, come la maggior parte dei suoi fratelli massoni, e ne abbiamo conferme da queste notizie dette da Costanze con molta cautele e anche con molta paura. Ma il fatto di essere massone non significava assolutamente che non fosse anche profondamente cattolico. Non si può tirare Mozart per la giacchetta da una parte e dall'altra e probabilmente questo è uno dei motivi per cui la musicologia ottocentesca e novecentesca ha fatto dei passi falsi molto pesanti perché Mozart era difficile da far rientrare sia in un'ottica di storiografia cattolica perché era profondamente antipapista come i massoni e come in generale i progressisti illuminati viennesi, molti dei quali erano profondamente cattolici. Ci sono Giuseppe il secondo stesso che con l'apparato ecclesiastico fu pesantissimo, tolse proprio, completamente abolì, direi proprio tolse dalla faccia della terra, settecento conventi e fece una legge in base alla quale le diocesi cattoliche potevano rimanere, i parroci potevano rimanere solo ed esclusivamente se annualmente potevano dimostrare di svolgere un servizio di assistenza scolastica e ospedaliera. Tra le cose che mi sono dimenticata di dirvi è che Giuseppe II ha fondato il primo grande ospedale pubblico. Questo vuol dire ovviamente avere una presa di posizione molto netta su quali erano i valori religiosi che andavano coltivati. Se tu parroco ti dedichi agli altri, interpreti il Vangelo e quindi io non solo non ti faccio pagare le tasse, ma ti aiuto a sopravvivere perché tu crei un tessuto sociale che per me è importante. Ecco, quindi sto cercando di accerchiare la posizione di Mozart. Abbiamo visto nel 1784 è diventato massone, vi stavo dicendo di questi testi giacobini di cui parla Costanze. Nella stessa lettera, in un'altra lettera, in una lettera del 1800 agli editori di Mozart, Costanze scrive, voi sapete che Mozart era massone e io ho del materiale sull'oggia intitolata Grotta che lui voleva fondare. La voleva fondare con Anton Stadler. Anton Stadler è importante per noi perché era un suo amico clarinettista massone al quale dedicò il meraviglioso sublime concerto per clarinette orchestra che tra l'altro era stato scritto e veniva da lui eseguito soprattutto per corno di bassetto. Il corno di bassetto che poi sentiremo era uno strumento massonico per eccellenza. Quindi Mozart voleva fondare una loggia massonica con Stadler che era un clarinettista, suo amico, fratello massone di loggia e Costanze dice però non posso entrare nello specifico del progetto di questa loggia perché Stadler per paura non vuole darmi il materiale che ha tenuto. Quindi la sua posizione era una posizione non facile e di grande chiarezza politica ed etica. Però questo diciamo che vale maggiormente per il momento di fioritura della trilogia da Pontiana, delle opere in italiano famosissime, quelle che ho citato prima, che vengono composte tra 1785 e l'ultima così fan tutte viene rappresentata nel gennaio 1890. Qui siamo nel 91, Giuseppe II è morto nel 90, è morto per quella guerra contro i turchi che è stato uno dei suoi grandissimi passi falsi come sicuramente una delle cose più deboli, più discutibili, più criticabili fu proprio la sua politica estera. E qui arriviamo alla posizione di Mozart nel 1791, quindi un musicista inserito nei circoli progressisti ma che non ha più il retroterra di Giuseppe II. C'è Leopoldo che era stato come granduca di Toscana uno degli uomini più illuminati d'Europa, uno dei primi ad aver abolito la tortura e la pena di morte, che però non può più fare quello che faceva precedentemente perché una sorella, Maria Antonietta di Giuseppe II, è stata decapitata ed è successo qualche successo. Leopoldo II sta cercando di barcamenarsi perché l'aristocrazia sta cercando di riguadagnare terreno, per esempio deve cedere sulle corvè che Giuseppe II aveva totalmente abolito, cioè le prestazioni gratuite dei contadini ai padroni, però non cede quanto l'aristocrazia avrebbe voluto. Quindi è un momento molto delicato in cui un messaggio come quello del flauto magico ha una valenza etica e politica veramente massiccia e importante. Allora, per entrare maggiormente nell'opera e per riprendere questi fili della piena, totale consapevolezza etica, politica, morale, religiosa di Mozart, che come vi dicevo era cattolico ma era anticlericale, come la maggior parte dei suoi amici intellettuali, per esempio Christoph Martin Wieland, che è stato un grande scrittore austriaco, che era profondamente religioso, come vi stavo accennando prima, poi mi perdo nei mille rivoli, Giuseppe II, che non fu mai ateo, anzi si dichiarò sempre cristiano e profondamente religioso. Era estremamente tollerante e aperto nei confronti di chi lo era, appunto che nel 1783 riuscì a far approvare un codice civile che prevedeva i matrimoni tra cattolici e non cattolici e addirittura il divorzio se i contraenti in matrimonio non erano praticanti. E aveva con la sua patente di tolleranza aperto non solo la via all'accettazione di protestanti e di persone che professavano fedi diverse, ma addirittura anche aveva sdoganato in parte almeno gli ebrei. Qui arrivo a un'altra opera di Mozart contemporanea al flauto magico, sempre perché non pensiate che io e i colleghi musicologi, soprattutto anglo-americani, ma adesso anche tedeschi, grazie al cielo, che siamo sempre più consapevoli che la documentazione è schiacciante su quanto Mozart sia non diverso, ma l'opposto di quello che ci ha descritto Forman in Amadeus, è importante sapere. Allora, Mozart sempre nel 1791 insieme a quel concerto per clarinetto di Bassetto, tra l'altro Abado lo fece rifare proprio col clarinetto di Bassetto perché sapeva quanto fosse importante, anche se normalmente noi siamo abituati a sentirlo con il clarinetto. È questa cantata che si intitola Heineck, 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 Cantate KV619 sul testo di questo Franz Heinrich Ziegenhagen. Ziegenhagen è considerato dagli storici, non dai musicologi che l'hanno praticamente ignorato fino a pochi decenni fa, il primo proto-socialista europeo. Ziegenhagen aveva fondato, essendo benestante, una cooperativa nella quale cercava di mettere in pratica quello che teorizzò in questo testo intitolato La dottrina della giusta armonia, dalla quale Mozart trasse un frammento dedicato alla tolleranza religiosa, musicato appunto in questa cantata KV619, bellissima tra l'altro, in cui si dice che Dio può essere chiamato Buddha, Allah o Jehova. Questo non cambia niente, quello che conta nel profondo è l'interiorità, la religiosità e quei valori di cui si parla nel fratto magico, quando Tamino deve affrontare le prove del fuoco e dell'acqua, cioè le prove iniziatiche fondamentali, e i sacerdoti e l'oratore chiedono a Sarastro se effettivamente Tamino è virtuoso, è discreto, voi sapete quanto fosse importante per la massoneria dell'epoca riuscire a mantenere non il segreto perché in realtà i testi massonici del periodo di progressismo politico erano diffusi ovunque, c'erano addirittura nelle biblioteche dei gesuiti, questi si sono proprio trovati, ma una sorta di discrezione interiore, di capacità di capire quando è il momento di fare dei passi e quando è il momento invece di tenere il profilo basso perché è irrealistico pensare di poter fare il passo più lungo della gamba. Ecco, Mozart prende questo frammento, lo musica e il testo proto-socialista che descrive questa società dove c'è un capitalismo, ma un capitalismo moderato, dove non viene ucciso nessun aristocratico perché non era assolutamente nella loro mentalità. L'aristocrazia era considerata corrotta e perversa se sfruttava i propri privilegi a svantaggio della società. Se invece come molti amici nobili, massoni di Mozart erano in grado di conservare il proprio patrimonio etico, morale, economico e metterlo a servizio della società, venivano assolutamente ben visti. Quindi una posizione che da un lato prospetta una cooperativa con tanto di incisioni di Czodowiecki che era il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Berlino che rappresenta degli ebrei torturati per dimostrare come non ci sia ancora tolleranza religiosa e incide queste scene meravigliose, anche campesti dove i contadini partecipano con una parte di proprietà alla gestione del terreno, del territorio, eccetera, eccetera. Ecco, viene pubblicato subito dopo la morte di Mozart con la partitura di Mozart annessa a questo testo. Il tutto venne mandato alla Convenzione francese che lo rigettò al 100% dicendo che siccome non si tagliava la testa a nessuno e non c'era una rivoluzione croenta che era totalmente esclusa dai progressisti massoni viennesi, a loro non interessava minimamente. Ecco, a questo punto non possiamo più dubitare del fatto che Mozart quest'opera l'avesse scritta perché ci credeva al 100% e perché era un suo programma etico e politico. Allora, la prima domanda, dicevo, fatta a Tamino, è fatta a Sarastro riguardo Tamino, è un uomo virtuoso, sì è virtuoso, è discreto, lo abbiamo già detto, si è discreto, è caritatevole. Questa è l'ultima fondamentale domanda. In tutte le riunioni massoniche a cui Mozart partecipava venivano raccolti dei fondi. Questi fondi venivano destinati ai poveri, agli ospedali, alle donne single che grazie a una legge voluta da Sonnenfest, di cui Mozart dice a me basterebbe che lui capisse la mia musica e poi il resto di Vienna potrebbe anche non capire, avere le orecchie tappate e per me varrebbe la pena di scrivere. Questo era Mozart. Mi vale la pena di scrivere purché uno come Sonnenfest capisca. Sonnenfest aveva fatto approvare una legge per cui le donne avevano il diritto di partorire segretamente, non essere emarginate, aveva creato una casa di accoglienza dove loro potevano rifugiarsi e il bambino poteva essere invece che spesso ucciso, abbandonato, recuperato insieme alla madre. Ecco, quindi caritatevole Sarastro risponde sì e allora dice bene, Sarastro dice come vedete Tammino ha tutte le qualità per poter affrontare le prove che possono portare alla morte, la morte era un passaggio simbolico fondamentale per i massoni, oppure possono portare alla vita, in ogni caso alla beatitudine che è data dalla saggezza, dalla benevolenza nei confronti degli altri, dal progresso eccetera eccetera. L'ultima domanda è ma lui chi è? Sarastro risponde lui è un principe e quando l'oratore si compiace del fatto che sia un principe Sarastro dice è più di un principe, è un uomo. Questa è la risposta dalla quale deriva la possibile iniziazione di Tammino e Pamina. Io farei qualche ascolto perché a me sembra sempre di dire pochissimo perché ci sono molte molte altre cose proprio concrete, documenti che possono convincervi del fatto che il flauto magico rappresenti un testamento commovente di tutto quello in cui Mozart credeva e che sperava si potesse realizzare e quindi io penso che al giorno d'oggi sia tanto più importante proprio perché è un'opera popolare, raccoglierne l'eredità con quello spirito, con l'idea che si possa veramente fare qualcosa per migliorare e cambiare il mondo. Solo che per me sarebbe importante dirvi molto di più perché non voglio che voi pensiate che sia una teoria mia o di tanti altri studiosi che stanno dimostrando che Mozart era questo, ma sono fatti storici, documentabili, indiscutibili che non fanno di Mozart un uomo perfetto perché non lo era perché era un uomo, come direbbe Sarastro, ma fanno di Mozart un personaggio eccezionale dal quale è scaturita la musica che ha un portato che verrebbe assolutamente ridotto e frainteso se noi non capissimo quanta consapevolezza c'è dietro al pensiero musicale di Mozart. Siccome appunto temo che siamo già molto avanti, io farei qualche ascolto e cercherei di infilare qualche altra notizia sempre in questa direzione. Intanto guardo l'ora, scusatemi. Eh sì, è già tardissimo. Però mi hanno detto che ho tempo fino alle 7 quindi riusciamo a sentire, c'è qualche piccolo ascolto, non sono molti e non sono neanche lunghi ma secondo me sono significativi. Allora come prima cosa sentiamo l'area della Regina della Notte, sentiamo l'area della Regina della Notte che è l'unico brano che ho scelto dal primo atto, poi passerei subito al secondo per poter arrivare appunto al cuore dell'opera. È un'area famosissima, ci sono due aree molto importanti. Vorrei che così poneste l'attenzione sul fatto che questa donna che è in questa fase dell'opera è un personaggio positivo che racconta a Tamino lo strazio di quando il malvagio come lo chiama lei, quindi Sarastol, le ha rapito la figlia, sia un personaggio in realtà ambivalente, un personaggio che sicuramente fa parte della schiera dei cattivi dell'opera tant'è vero che alla fine sprofonderà insieme a Monostato che è il moro che ha tentato di insidiare la figlia e che è un sottoposto di Sarastro e che la dice lunga su come il bene e il male, uno dei principi fondamentali massonici era l'incidenza oppositorum, per cui nel bene c'è sempre un po' di male, nel male c'è sempre un po' di bene, l'alto il basso, il maschile, il femminile eccetera eccetera. Ecco direi che la cosa più straordinaria dal punto di vista psicologico di quest'area è che questa donna che poi scopriremo a essere una donna che in realtà non vuole il bene della figlia, in realtà questa figlia la ama e questo amore è assolutamente palpabile dal punto di vista musicale e ci fa vedere un lato buono, umano che sicuramente lei ha. Ecco, in questa difficoltà virtuosistica, in questa diciamo ambivalenza, per cui il Larghetto ce la propone come una donna sofferente, cui hanno strappato la figlia, questo allegro vivace ci dimostra il temperamento che poi verrà fuori nell'opera. È interessante che lei si spinga fino al fa acuto e che in questo pezzo che vi faccio sentire adesso che è il coro di Sarastro e il coro dell'inizio del secondo atto, Sarastro si spinga fino al fa grave, quindi a quattro ottavi di distanza che sono simbolicamente proprio l'opposto dell'alto e del basso e Moza non faceva assolutamente mai queste cose casualmente. Quello che vi faccio sentire adesso, che è questo coro di Sarastro, è all'inizio del secondo atto, dopo che sono state fatte queste domande da parte dei sacerdoti su Tamino, sulle qualità di Tamino. Voglio raccontarvi solo velocissimamente due aneddoti, poi cerco davvero di parlare meglio, di farvi ascoltare, che sono irresistibili e che riguardano proprio il flauto magico e le ultime due lettere di Mozart. Mozart scrive due lettere che sono le ultime che ci ha lasciato nel 1791, stiamo parlando dell'ottobre, quindi nel mese dopo la rappresentazione del flauto magico e di Cremenza di Tito, la moglie si trovava a Baden per delle cure termali perché soffriva di quelle che oggi chiamiamo vene varicose. Naturalmente qui bisognerebbe aprire un immenso capitolo sulla rivalutazione di questa povera costanze che viene descritta come quella che ha abbandonato il marito, sofferente. Intanto in una di queste lettere Mozart dice che ha mangiato un intero cappone, quindi va contro tutta la teoria che lui stesse malissimo da mesi. Ma sono due lettere deliziose, intanto perché c'è questo amore incredibile nei confronti della moglie che ha a Baden dove lui continua a dirle mi raccomando non fare troppe cure, non esagerare col caldo, con il freddo. Cioè loro si amavano follemente, nonostante avessero vissuto tante difficoltà, avessero avuto sei parti, due figli, eccetera. Nella penultima lettera Mozart le racconta che porterà nel pomeriggio la mamma, cioè la madre di Costanze a sentire l'opera e porterà anche Hofer che è il marito di Josefa Weber, una delle sorelle di Costanze, non quella di cui lui si era innamorata, Luisa, altra cantante di grandissimo successo prima di innamorarsi di Costanze, un'altra sorella che aveva fatto una straordinaria carriera e che in quella circostanza lì fu la prima regina della notte. Quindi la mamma, cioè la suocera di Mozart, andava con Wolfgang a teatro, ad assistere al fatto magico, in quanto suocera del compositore ma anche mamma della regina della notte che, come abbiamo sentito, richiedeva delle qualità vocali straordinarie. Ecco, mentre parla di queste cose Wolfgang dà proprio l'idea di com'era lui, cioè di questi due volti che il determinismo storicista ha fatto fatica a mettere insieme, perché racconta che in palco c'era una persona, Georg Nikolaus Nissen, il secondo marito di Costanze, che scrisse un'importantissima biografia con Costanze, per motivi proprio anche di politica, di paura, di sopravvivenza, come vi accennavo prima, ha censurato alcune parti delle lettere, delle testimonianze, eccetera, anche se ha lasciato un lavoro importantissimo, fondamentale. Ha cancellato il nome di questo personaggio, per cui noi non sappiamo chi è, ma c'è questo personaggio in palco con Mozart che continua a scherzare, a ridere, a fare battute e non capisce assolutamente niente. Wolfgang racconta tutto questo a Costanze e dice che a un certo punto lui ha perso la pazienza, soprattutto perché si trattava dell'inizio, del secondo atto, di questo coro che io voglio far sentire, che Mozart dice alla moglie è fondamentale dal punto di vista proprio etico, e dice ho cercato anche di spiegargli qualche dialogo, l'importanza delle parole, del testo, questo sempre per tornare al discorso solo accennato di quanto Mozart fosse consapevole dentro ogni parola che musicava e siccome non ci riesce, perché questo non capisce niente, gli dà del papagheno e esce dal palco. Esce dal palco e dove va? Va in orchestra e qui c'è l'altro lato di Mozart, quello che molti storici non hanno saputo leggere nella chiave libertaria anche della sua infanzia, dove parlava la mamma con la famosa scurrilità, perché era la mamma non tanto la cuginetta che diceva delle cose che salutava, lui scriveva alla mamma quando era in Italia, diceva ti infilo il dito nel culo che ti arrivi fino alla bocca, quindi questa cosa perversa che ci è stata costruita sopra non ha il minimo senso, perché era un modo familiare di parlare che si legava a una tradizione arablesiana progressista, per cui il corpo non è qualcosa di cui avere orrore, ma questo aprirebbe un'altra digressione impossibile. E quindi viene fuori comunque quest'altro lato giocoso, perché lui appena dato del papagheno a uno che secondo lui non capisce niente, che chiama imbecille, e va in buca e si mette al clavicemmalo, siccome Schikaneder faceva spassare, Schikaneder è il librettista dell'opera, perché non lo sapesse, o almeno uno dei librettisti, perché sarebbe un discorso, comunque è sicuramente un importante autore del testo, ed era anche colui che aveva voluto quest'opera, l'aveva voluto in quel teatro, era un grande anche imprenditore, uomo di teatro, eccetera, eccetera. E si mette a clavicembalo, manda via quello che suona da clavicembalo e quando c'è la scena di Pamina con un papagheno in cui deve suonare il carillon, suona lui il carillon e lo suona in modo tale da far capire a Schikaneder che sta succedendo qualcosa. Allora Schikaneder, che sta dirigendo, ha un attimo di spaisamento e comincia un gioco tra loro due che finisce con Schikaneder che dice a Mozart chiudi il becco, alludendo appunto a papagheno, per cui a detta di Mozart, che lo racconta la moglie, tutto il teatro è scoppiato a ridere. Allora voi capite che se noi avessimo solo questo aneddoto o lo volessimo estrapolare, ci faremmo l'idea di un Mozart che è solo papagheno, invece Mozart non era solo papagheno, tant'è vero che dà del papagheno a uno che non capisce quello che adesso andiamo ad ascoltare, che è la preghiera di Sarastro a Iside e Osiride perché accolgano Tamino e papagheno dopo che avranno affrontato le loro prove del regno della beatitudine e della giustizia. questo coro ha la forma di molti pezzi che venivano eseguiti durante le riunioni massoniche con la ripetizione all'ottava sopra del coro di quello che canta Sarastro. La ripetizione all'ottava sopra era proprio una prassi dedicata a chi musicista non era ma apparteneva alle logge massoniche. Ecco, notate il fatto che Sarastro vada raggiunga il fa grave, come vi dicevo, a 4 ottave di distanza dal fa acuto che abbiamo appena sentito nell'area della regina della notte. Allora, volevo farvi sentire anche l'area di Pamina ma la salterei purtroppo perché il tempo stringe. L'area di Pamina era importante, diciamo, dal punto di vista proprio del dare un'idea il più possibile sfaccettata dell'opera ma mancherebbe l'oratore che è una figura importantissima, le tre damigelli che comunque hanno anche il loro ruolo non da poco e i tre fanciulli che sono importantissimi perché sono coloro che riescono sempre a sbrogliare la situazione, a spingerla verso il lieto fine, diciamo, e rappresentano l'infanzia non solo come fase della vita ma come attitudine dello spirito. Vi dicevo di quelle ultime due lettere, l'ultima lettera di Mozart nella quale veniamo a sapere, quella subito dopo l'altra di cui vi ho raccontato gli aneddoti e che è l'ultimissima proprio, lui racconta la moglie di essere andato a prendere Salieri insieme a Caterina Cavalieri, grandissima, anche lei cantante, e averli portati a teatro in carrozza, il che dice anche molto sulle esagerazioni del rapporto negativo tra Salieri e Mozart. E poi il resto della lettera è incredibilmente dedicato a Carla, il piccolo bimbo che non conobbe mai il padre, che si affezionò moltissimo al secondo marito di Costanze e tanto che dopo vent'anni, quando venne organizzato da Costanze, vent'anni in matrimonio di Costanze con Nissen, venne organizzato da lei un concerto con musiche di Mozart suonate da questo neonato che diventerà un interprete importante e che veniva, anche se il suo nome era Franz Xaver Wolfgang, veniva sempre chiamato Wolfgang anche in memoria del padre. Wolfgang scriverà alla madre dicendo che è bello vedervi da vent'anni uniti in questo amore, vederti unita con una persona che è stata un padre per me e che ha dedicato insieme a te la vita alla ricostruzione della memoria del mio padre biologico. Io questo lo trovo commoventissimo. Comunque quest'ultima lettera è dedicata tutta a questo bimbo di sette anni, Karl, che Mozart porta a teatro, mentre l'altro piccolissimo appunto era neonato e se ne stava a casa. Questo per dire che ci sono tante altre cose nell'opera di cui non si può parlare. Nell'aria importantissima, Pamina è straziata perché Tamino non le rivolge la parola, perché deve affrontare la prova del silenzio che Papageno non riesce a superare ma gli verrà condonato perché continua a parlare, mangiare e fare le sue cose e invece lui ovviamente rispetta il diktat, non parla Pamina, Pamina si dispera ed è un'area meravigliosa, commovente. Io però forse direi che magari riusciamo a sentirla. Sì, ce la facciamo, abbiamo visto il tempo. Sentiamola. No, dicevo che nell'area di Pamina, se mi capita di far mente locale quando l'ascolterete, questa è una delle, riconosciute come una delle più belle aree che Mozart abbia mai scritto, c'è questo accompagnamento degli archi che è un ritmo ternario in cui il secondo è il quarto del 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi il secondo del ritmo ternario dei tre ottavi e l'altro secondo che quindi diventa il quinto è una pausa. Detto in termini non tecnici che non tutti potrebbero capire, è comunque una sorta di ansimare, la pausa dà l'idea del suo strazio, della sua angoscia perché Tamino non le parla e quindi lei è convinta che lui non l'ami. Ecco, anche questo è molto importante, tenere presente quanto Mozart fosse attento ai dettagli. Quando scriveva al padre riguardo Arato del Saraglio, che è un'eccezione perché abbiamo una sorta di suo diario scritto al padre che ci permette di capire qual era il suo modo di approcciarsi al testo, lui parla di Belmonte a un certo punto, proprio descrivendo come lui con i suoni riesca a dare l'idea del suo palpito, del suo cuore che batte, del sangue che sale, delle emozioni. Cioè Mozart non aveva paura di essere descrittivo perché non lo era mai, perché andava nel profondo delle cose, però aveva l'ambizione di tradurre in suono affetti, pensieri e sentimenti, cosa che poi molta parte della musicologia, anche novecentesca, ha guardato sempre con un certo timore. Il timore ci deve essere se il descrittivismo è banale, ma quando c'è una profondità di pensiero, di atteggiamento, come quello che abbiamo sentito per esempio nel coro prima, che se pensiamo quanto lui diventa rabbioso con questo qui perché non capisce che qui c'è una profondità abissale di pensiero musicale, non solo, è un punto che ogni volta che lo sento mi commuovo fino alle lacrime, non capiamo qual era l'atteggiamento di Mozart che scriveva in una lettera a Luisa Weber quando era innamorata nel 1778, tu devi essere Andromeda se vuoi cantare Andromeda, tu devi sentire come lei, devi essere la stessa persona, altrimenti io scrivo della musica che non serve a niente. Ecco, questo per dire che anche il flauto magico, per esempio l'area di Pamina, è da ascoltare con questa sensazione. Non è un caso che gli archi abbiano queste pause che sono dei respiri perché sono il respiro di chi ha l'affanno e di chi veramente si sente morire dal dolore e Mozart riesce perfettamente a comunicarcelo, oltre con questa melodia sublima che è quella di Pamina. Passiamo all'ultimo ascolto che è articolato perché poi ci sarebbe papagheno papaghena, ma secondo me possiamo semplicemente sintetizzarlo perché è famosissimo. Siamo nel momento della prova del fuoco e dell'acqua, perché è importantissima, non solo perché da lì ci sarà la svolta positiva, il coro di trionfo e il fatto che Tamino e Pamina saranno accolti nel regno di Iside e Osiride, perché è veramente densissimo questo punto, sia da un'ottica musicale che da una prospettiva proprio filosofica, perché i due armigeri e Tamino decidono che è il momento in cui Tamino è in grado di affrontare le prove, che sono poi le prove iniziatiche a cui erano sottoposti gli adepti che vedevano nella morte quello che Mozart, scrivendo al padre nel 1787, poco prima che lui morisse, chiamava la migliore amica dell'uomo, chiave della nostra felicità. Per i massoni, se non capisci il valore e il senso della morte, non raggiungerai mai neanche il senso della vita. Quindi Tamino deve affrontare tutto questo ed è pronto, solo che nel momento in cui si sta buttando a affrontare le prove del fuoco e dell'acqua, sente la voce di Pamina. È un momento magico, semplicissimo, in cui lei dice Tamino mio, e lui risponde Pamina mia. E a quel punto Tamino chiede se può parlarle e gli armigeri dicono sì sì, puoi parlarle, adesso tu hai già superato la prova del silenzio, puoi parlarle. E decidono insieme che affronteranno le prove mano nella mano. E qui si dice una frase che è chiave dell'opera, perché si dice perché una donna che non ha paura della morte e delle tenebre è degna e può essere iniziata. Questa era la tesi di tutti gli amici di Mozart che a Vienna aprirono le logge massoniche anche alle donne. Ziegenhagen, che vi ho citato prima, ne fece proprio una battaglia in prima persona. Ignaz Born, un altro grande pilastro del progressismo viennese, mineralogista, scienziato, intellettuale. Molti hanno visto in Sarastro proprio una riproposizione della figura di Born, di questo scienziato, saggio, illuminato, aveva una figlia che frequentava le logge massoniche. Quindi è una sfida incredibile che dal punto di vista musicale diventa una polifonia avviata proprio dalla voce di Pamina e che termina con l'iniziazione non più presso Iside e Osiride, ma solo alla Dea Iside, di cui vi dicevo già prima. Io chiudo questo ascolto e vi dico solo un'ultimissima cosa, che tra le tante fonti del frauto magico sono veramente moltissime, anche perché la cultura di Mozart era sconfinata, a differenza di quanto si è erroneamente sostenuto. C'è questo Setos di Terasson che è considerato da tutti una delle fonti, oltre che un testo sugli antichi egizi di questo Born di cui vi dicevo prima, in cui gli iniziati che vengono accolti nel Tempio vanno a far parte del gruppo dei sacerdoti e delle sacerdotesse, quindi con un'uguaglianza di genere sbalorditiva. Tanto più sbalorditiva se si pensa che nel momento dell'iniziazione bambini e bambine di questi iniziati vengono suddivisi a seconda delle attitudini, hanno dei vestiti di colore gioioso e diverso a seconda che abbiano un'attitudine per la matematica, per la scienza o per la letteratura, eccetera, e bambine e bambini studiano allo stesso modo. Gebbler, del quale Mozart ha musicato una parte di Tamos, Tred, Egitto, quando ancora era ben lontano, negli anni 70 dall'essere un vero massone, quindi per dire quante radici culturali c'erano prima della sua iniziazione ufficiale, Gebbler riuscì a far approvare una legge voluta fermamente da Giuseppe II che obbligava i bambini dai 6 ai 12 anni, bambini e bambine, a studiare obbligatoriamente, senza possibilità di assentarsi neanche per motivi di lavoro, quindi maschi e femmine dai 6 ai 12 anni, anche nel più piccolo e sperduto villaggio dell'Austria. Quindi voi capite perché questa scena, con questa musica sublime, sia diciamo un piccolo concentrato del molto di più che avrei voluto dirvi, ma di risparmio perché se no io non mi fermerei più e chiuderei con questo ascolto che commento magari mentre sentiamo. Avete sentito che questa polifonia meravigliosa che porta poi alla marcia del flauto con sottoni e timpani che segna il superamento due volte della prova del fuoco e della prova dell'acqua, poi loro usciranno trionfanti e dici si avvia verso il finale con il famosissimo duetto tra pappaghenio e pappaghena che sognano una vita semplice, piena di bambini e lo sprofondamento poi dei cattivi nel sottosuolo. Ecco, io vi chiedo scusa perché credo di avere veramente esagerato, avrei un milione di altre cose da dirvi, spero solo di avervi fatto venire un po' di voglia di assistere a quest'opera rendendovi veramente conto che Mozart ha voluto lasciarci un messaggio che dia un'attualità incredibile. Se ci sono riuscite anche poco sono molto contenta a vi ringrazio per la pazienza. E grazie a Lidia Bramani, un fiume di parole, un fiume di passione. Potete trovare nel programma di sala anche un ampio intervento che approfondisce nel dettaglio molte cose che lei ha detto oggi. Flauto Magico è un'opera di formazione, mi fa piacere dire che oltre alle dieci recite per il pubblico adulto, il teatro realizza l'opera in una versione per bambini, ragazzi, delle elementari e delle medie. 6-7 mila ragazzi parteciperanno, vedranno lo spettacolo e non solo, canteranno con i protagonisti dell'opera ed è una cosa molto emozionante anche da vedere. Ci sarà una recita il 25 maggio serale in cui è aperta al pubblico, non solo alle scuole, e si può vedere con gioia i bambini che partecipano in un modo molto diverso da quello nostro. Grazie. 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 Grazie.